Per mettere a segno le rapine non esitavano a travestirsi dai carabinieri, ma sono finiti in manette grazie ai carabinieri veri. I militari della stazione di Marianella a Napoli, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale Partenopeo nei confronti di dieci soggetti già note alle forze dell'ordine per reati di rapina, detenzione, porta abusivo d'arma da fuoco, sequestro di persone e furti in abitazione. Le indagini sono partite da una violenta rapina in abitazione ai danni di un imprenditore e l'anno scorso nel quartiere di San Carlo all'Arena. L'attività investigativa ha consentito di documentare l'operatività di un gruppo criminale dedito alle rapine e furti in appartamento, consumati tra settembre e dicembre 2018 in diversi quartieri di Napoli e nelle città di Afragola e Marcianise. Alcuni componenti dell'organizzazione, quattro soggetti, erano stati già colpiti da un'analoga misura cautelare lo scorso 23 gennaio al termine di un primo filone dell'inchiesta. Erano ritenuti gli autori di tre rapine a mano armato, due in abitazione e una in danno di una sala scommesse. Le investigazioni eseguite, prime arresti, hanno portato all'identificazione di altri sei componenti del suo talizio criminale, a carico dei quali sono emersi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione di un furto in abitazione e di tre rapine, una delle quali sventata grazie all'intervento di una battuglia dei carabinieri.